no 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 ma è una barca che va io l'ho detto pure l'altra volta io sono sicuro questa sta al 60-70% dei prestazioni tua pensate sto sicuro perché sembra che hai 2.000 regolazioni ma ce n'ha nessuna quindi pensa messa a punto come andrebbe secondo me qui il 30% di miglioramento c'è e finalmente in immigrata abbiamo rimandato via e porca miseria e mo basta e mo basta ciao quant'è gli iscrivi olivetorci 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 andiamo è un parolone ragazzi qui si scrive la storia ma chi come te posta guardatelo guarda controcorrente ragazzi guardate che giornata castelgandolfo 31 dicembre ragazzi 31 dicembre ragazzi stucco Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno. 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 Buongiorno.